Ciao a tutti e bentornati un'altra volta qui su Digital Best e siamo ancora in compagnia dello Xiaomi Mi Drone 4K, un drone eccezionale e che considero il migliore in assoluto per rapporto qualità prezzo. Ho già dedicato alcuni video a questo drone per quanto riguarda la sua preparazione al volo, i test di volo e per le riprese aeree che se volete potete vedere cliccando sulla scheda informativa in alto a destra in questo video. Vi ricordo velocemente le sue caratteristiche, è un drone molto potente, ha quattro motori brushless, una videocamera che può registrare fino a 4K con uno stabilizzatore a tre assi, quindi fa dei video veramente molto stabili e di livello professionale e semiprofessionale. Possiede il modulo GPS, GLONASS, la bussola, è veramente un drone molto sicuro, in condizioni ottimali si può arrivare fino a un paio di chilometri con il suo radiocomando. Detto questo se volete approfondire ed eventualmente acquistarlo alle migliori offerte trovate come al solito i link nella descrizione di questo video, nel quale nello specifico voglio parlarvi della bussola di questo drone, quindi vedremo insieme la calibrazione della sua bussola e parleremo della sua sensibilità. Allora innanzitutto diciamo due parole sulla sensibilità della bussola dello Xiaomi Mi Drone 4K. Allora perché questa scelta di mettere una bussola così sensibile in un drone? Il motivo principale è che i droni come questo, cioè droni da ricognizione e da ripresa aerea, nel momento del decollo, grazie ai loro sistemi interni di GPS e anche bussola, recuperano tutta una serie di dati che poi gli serviranno per le funzioni automatiche di volo, tra cui il ritorno a casa automatico appunto. E quindi più i dati saranno precisi al momento del decollo e migliori e più precise saranno tutte quelle modalità di volo automatiche. Il fatto che la bussola sia così sensibile però che cosa può causare? Può causare che a volte il drone da un determinato punto si rifiuta di partire perché la bussola diciamo percepisce troppe interferenze. In realtà questo non deve spaventare perché non è assolutamente un problema. Nella maggior parte dei casi, nel mio caso in tutti i casi, è sufficiente spostare il drone di qualche metro, a volte anche di un solo metro. Quindi a meno che non vi troviate su una miniera di ferro, semplicemente basterà spostare il drone veramente a volte anche di poco. È un'operazione che forse nel primissimo volo potrebbe lasciare un po' così basiti se non conosciamo le particolarità di questo drone. Ma poi una volta capite le dinamiche sarà veramente poi semplice trovare il posto dove il drone preferisce decollare, diciamo così. Ok, sono andato a cercare appositamente un punto dove la bussola sente diverse interferenze per farvi vedere appunto che cosa succede. Praticamente il sistema dice che ci sono appunto queste interferenze e chiede di spostare il drone in un'altra zona. Ad esempio in questa zona non ho trovato quasi nessuna interferenza, ho dovuto veramente posizionarlo in diversi punti prima di andare a trovare il punto dove il drone non voleva partire appunto perché sente queste interferenze. Quindi semplicemente basterà spostare il drone, quindi lo andiamo a prendere proprio di peso in questo modo e lo spostiamo magari dando un occhio allo smartphone e nel momento in cui ci dice cooled take off cioè il drone può partire lo andiamo a posizionare qui. Ok, viene mantenuta la scritta cooled take off quindi vuol dire che il drone da lì può partire e come avete visto l'ho spostato davvero di pochissimo, circa un metro da dove era prima. E in questo modo andando ad armare i motori come vi ho fatto vedere nel video tutorial, il drone è pronto al decoglio. Ma adesso andiamo a vedere insieme la calibrazione della bussola. Ok, iniziamo la procedura di calibrazione della bussola, ma prima volevo dirvi un paio di cose. Ad esempio su YouTube a volte può capitare di sentire alcune persone che hanno provato questo drone che dicono che ci sono delle difficoltà nelle zone limitrofe, alle città eccetera eccetera. In realtà non è assolutamente vero, tant'è che adesso ci troviamo molto vicino a una zona popolata, quindi a una città. La questione è proprio quella di prendersi la briga di capire alcune dinamiche di questo drone e di comprendere che la sensibilità della bussola in realtà è un pregio e non un difetto. Quindi a questo punto andiamo a vedere come si effettua la calibrazione della bussola, entriamo nel menu, scegliamo la voce compass, cioè bussola appunto, premiamo sul pulsante start e la prima calibrazione che ci chiede consiste nel ruotare il drone in questo modo, quindi tenendolo in orizzontale, ruotarlo in questo modo. A volte richiede un po' più di tempo, vediamo un po', bisogna aspettare che ci dà l'ok per l'altra calibrazione. Ok, adesso lo mettiamo in questo modo e facciamo l'altra calibrazione della bussola che si fa in verticale, è un pochettino scomodo devo dire, però aiutandosi con le braccia. Ecco, ok, calibrazione ha avuto successo, quindi in questo momento, come ci dice anche questo suono, la calibrazione della bussola ha avuto successo. Vi ripeto, è un'operazione che non siete obbligati a fare, comunque non siete obbligati a fare sempre, però è consigliabile in tutti quei casi dove vi trovate a volare in una zona per la prima volta. Ed eccoci qua allora alla fine del tutorial per quanto riguarda la calibrazione della bussola e quelle nozioni appunto che possono servirvi per comprendere quella che è la sensibilità della bussola di questo drone. E visto che sono qui ne approfitto naturalmente per fare qualche volo con lo Xiaomi Mi Drone, questo drone che vi consiglio assolutamente senza riserve e che se volete approfondire ed eventualmente acquistare vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link alle migliori offerte per questo drone e i suoi accessori. Come sempre vi invito alla prossima e vi faccio un carissimo saluto. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!